E tra pochissimo è il tempo del collegamento, andremo a salutare i nostri prossimi ospiti Antonello Armieri e Giuseppe Di Nardo, componenti del cantiere Kairos che sono usciti con un nuovo brano intitolato Sono speciale con l'etichetta discografica La Gloria parlavamo proprio del loro legame con Assisi. Grazie ai nostri amici telespettatori che stanno inviando molte foto questa mattina li ringraziamo, magari oggi non avremo modo di vederne alcune, lo faremo nei prossimi giorni e magari anche da sabato che inizia la programmazione speciale dedicata alla novena al Santo di Pietrelcina del quale poi tra un po' ricorderemo il programma, potete anche inviarci delle foto che in qualche modo hanno come protagonista il Santo di Pietrelcina foto dei vostri telerinaggi a San Giovanni Rotondo oppure foto di statue, di quadri o qualcosa che in qualche modo vi lega al Santo di Pietrelcina quindi potete come sempre inviarle al nostro numero 331 737 8033 Sono speciale, dunque il titolo del nuovo brano del cantiere Kairos della pop rock band cristiana allora diamo il benvenuto, adesso non so in che ordine appariranno ad Antonello Armieri, voce e chitarra acustica e Giuseppe Di Nardo, chitarre buongiorno ragazzi, benvenuti buongiorno a te carapalla eccoci, eccoci Antonello non so se abbiamo anche Gio, però vabbè in attesa del collegamento non so se hai visto, prima ci siamo collegati con Assisi quindi nulla accade per caso voglio dire, le distanze sono relative in questo caso esatto, proprio le abbiamo annullate allora Antonello, siete usciti qualche tempo fa ad agosto, se non sbaglio, correggimi ecco, ad agosto con il nuovo brano Sono speciale che cosa cantate in questo nuovo pezzo? beh, il 10 agosto è uscito Sono speciale e vogliamo ricordarci così in modo energico quanto sia importante ricordarci che siamo speciali agli occhi di Dio in modo molto semplice noi a volte ci buttiamo giù siamo noi stessi a svalutare le nostre esistenze magari accontentandoci di alcune circostanze di alcune cose che ci riguardano mentre il Signore è morto per noi cioè senza girarci troppo intorno si possono usare tanti modi per descrivere quello che Gesù ha fatto però alla fine è quello che è successo lui è morto per me, per noi perché siamo speciali, siamo importanti e questa cosa non basta mai ricordarcelo cioè bisogna farlo tutti i giorni e noi l'abbiamo fatto appunto con un testo molto lineare molto semplice ed immediato in modo tale che anche chi non conosce il brano magari durante i concerti possa entrarci immediatamente per capire che è qualcosa che riguarda appunto tutti ecco, lo vedo anche che si aggira nel nostro studio eccolo qui Giordinardo, eccoci vedevamo che ti aggiravi col telefono allora eccoci e benvenuto benvenuto anche a te avete lanciato anche un hashtag sono speciali in cui davvero ognuno ciascuno di noi di chi ascolta la vostra musica può identificarsi in questo tema chiedersi perché sono speciale per il Signore è così Gio? Sì, abbiamo provato a interagire un po' anche con le persone che ci seguono chiedendo loro perché si sentono speciali o quale potrebbe essere il motivo per cui non si sentono perché come sappiamo la vita non è sempre rose e fiori ci sono momenti anche di caduta in cui ci si interroga su quello che ci accade noi l'abbiamo fatto per prima raccontandoci noi in prima persona il motivo per cui ci sentiamo speciali abbiamo provato a interagire con i nostri amici sulla rete e sono arrivate delle risposte molto belle molto interessanti è sicuramente un ricordarci ogni giorno un piccolo promemoria per dare anche per iniziare la giornata nel modo giusto ecco se sono qui è perché Dio mi ha voluto qui ora in questo momento e in questo luogo sfrutto in pieno questa possibilità che mi ha donata e vivo col sorriso immagino che vi sentiate speciali l'uno per l'altro come componente perché non siete solo una band musicale i cantiere Kairos sono una testimonianza sono una famiglia sono degli amici dove vanno riescono davvero a cogettare dei semi attraverso la loro musica attraverso i loro testi e siete in tour quest'estate state davvero girando vi seguiamo anche sui social facebook instagram youtube il vostro sito internet come sta andando ma soprattutto com'è l'impatto con il pubblico perché nonostante cantiate da molto tempo immagino che poi il rapporto con chi vi segue con chi vi ascolta quello resti a proposito sempre speciale antonello ecco annoendo no hai chiesto a me perdonami non sentivo non sentivo Giuseppe assolutamente sì il tour sta andando benissimo stiamo stiamo girando così in modo miracoloso se si può dire diciamo tutta l'Italia incontrare le persone è sempre un privilegio una grazia direi perché ognuna di loro ha una storia speciale il fatto di confrontarci grazie a delle canzoni il fatto che poi loro si aprano anche a fine concerto che 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 ti consegnino parte delle loro esistenze è un qualcosa che che non ha così che non apprezzo no che è di un valore inestimabile per cui è sempre un qualcosa di nuovo e di speciale è sempre qualcosa di di prezioso il fatto di poter condividere e poi di sentirci comunque uniti perché chi sa il valore della preghiera e della della connessione di preghiera sa che dal momento in cui ci siamo visti ci siamo conosciuti resteremo tutti quanti nella medesima preghiera e nelle medesime intenzioni quelle appunto di testimoniare la nostra fede stavo pensando adesso ascoltando sia le tue parole che quelle di di Gio Antonello come ci siamo conosciuti come noi le chiamiamo le dioincidenze come i legami siano importanti ci siamo conosciuti grazie a Don Francesco Cristofaro poi grazie a voi abbiamo ci siamo abbiamo legato uno stretto legame con Safiria Leccese poi siete venuti giù in Puglia per ricordare Don Salvatore Mellone per poi andare al festival francescano insomma la bellezza davvero dei legami delle cose che non accadono a caso ma assolutamente bisogna bisogna così ammettere che a volte c'è come dire una connessione particolare che poi è duratura insomma per sempre sì è vero ecco allora ragazzi progetti per questo mese per i prossimi mesi immagino adesso intanto non vediamo l'ora che poi venga costruito su questo brano che ricordiamo è disponibile su tutte le piattaforme online però essendo una tv abbiamo bisogno delle immagini a supporto quindi appena sarà pronto il videoclip completo ci impegniamo a farlo a condividerlo con i nostri amici telespettatori magari facciamo un altro collegamento perché è bello sentirsi e chiacchierare con voi ti risponde Gio allora intanto abbiamo i prossimi concerti tra l'altro qualcuno in Puglia questa sera saremo ad Andrea il teatro della casa parrocchiale di Santa Maria Dolorata alle Proci dopo domani saremo a Potenza poi il 22 saremo in provincia di Cosenza e il 29 saremo a Lanciano a Chieti in provincia di Chieti benissimo quindi tra la Puglia e l'Abruzzo non riusciremo a vederci stasera però comunque noi continuiamo a seguirvi su Facebook Instagram YouTube sul vostro sito internet Cantiere Chai Ros con la K sono speciale ascoltate il brano dei nostri amici etichetta la gloria grazie per essere stati con noi è sempre un piacere sentirsi e soprattutto essere uniti nella preghiera e nell'amicizia grazie grazie Antonello Armini grazie Gio Di Nardo buon tour buona musica grazie di cuore allora 9.27 ci fermiamo poi torneremo per fare tornare vicino casa andiamo a Santa Agata di Puglia e poi per dare nuovamente spazio alle notizie con Nicola Morcavallo ma intanto lì nella regia grazie a tutti